Riportami a casa perché ho paura di me. Amici fin da ragazzini, Antonio e Agostino de Totino, sono nati nella campagna siciliana, che hanno abbandonato senza salutarsi. Li ritroviamo adulti, quando Antonio si mette sulle tracce di Agostino. La loro separazione è uno strappo ancora irrisolto, ma le diffidenze tra loro cederanno il posto a un inaspettato riallineamento della loro sintonia. Primo lungometraggio di Simone Catania, Drive Me Home, in Daga, con approccio caldo e aperto. Un tema sempre attuale, la necessità di lasciare il luogo in cui si è nati e di conseguenza anche il desiderio del ritorno, senza che questo passi per un fallimento. Il film ha il coraggio di essere sentimentale e si distingue per un'ottima dinamica tra i co-protagonisti. Qui, in direzione antitetica e coraggiosa, rispetto ai ruoli che le hanno resi noti al grande pubblico.